Parte da Pescara ma si estende in almeno sette regioni italiane, dalla Lombardia alla Sicilia, l'operazione della Guardia di Finanza nei confronti di una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari. Secondo quanto emerso dalle indagini, costituite prevalentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, perinamenti, osservazioni ed intelligence, diverse gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto in ambulanze in Abruzzo, Lombardia, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia sarebbero state turbate tramite fraudolenti e anomali ribassi di prezzi, garantiti non solo dallo sfruttamento dei lavoratori, costretti a turni massacranti, senza ferie e contributi, ma anche dal mancato rispetto delle condizioni di contratto stipulato con la stazione appaltante, pochi mezzi a disposizione e mai sanificati anche durante la pandemia. Tra l'altro la cooperativa, che opera sul territorio nazionale con 11 unità locali, in alcune gare ricorreva ad un prestanome per occultare l'effettiva direzione di uno degli indagati, già condannato in via definitiva nel 2017. Sequestrati i beni tra automezzi, terreni fabbricati per oltre 10 milioni di euro e congelate anche disponibilità finanziaria per circa 200 mila euro, tra i reati contestati e anche quello associativo. Il GIP di Pescara ha comunque nominato un amministratore giudiziario per garantire la continuità del servizio ed evitare i licenziamenti.